Per anni gli analisti hanno calcolato il potere delle rimesse in tutto il mondo. Ma cosa succede se non calcolano ciò che conta davvero? Oggi in Money Trans teniamo in conto ciò che è davvero importante. Mi chiamo Miguel Angel Vega, ho 18 anni. Mi sa che il titolo è Barbero, sono Pelucero e Barbero. Mi chiamo Betty, ho 52 anni. Ho tre bambini, una ragazza e due ragazze. Sono John, vengo da Colombia, sono 20 anni in Spagna. Mi dedico al transporte e viajo molto. Basilia è mia madre, la che mi chiamato, la che non mi ha fatto nulla. Io l'ai aiuto a lei con tutto, con lo che possa, inviare dinero, perché in mio paese la situazione non è così buona. e la mia famiglia è una famiglia humilde, che non ha molto riscolti. E io sono felice, sono felice. E con questo, potrei ottenere money. E anche potrei ottenere money a casa, a miei amici che sono in need a casa. Sempre hai qualcuno in la famiglia a cui appoggiare. Ho trovato con MoneyTramp, un'empresa genial, per poter fare l'amico aiutare la famiglia a te persone. E lui ha bisogno di avere money per survivare, ha bisogno di avere, come si viveva in un costello, ha bisogno di pagare per il costello, ha bisogno di farlo, ha bisogno di farlo, e l'ho fatto con MoneyTramp, con il money mobile, e questo è molto veloce, e quindi è molto conveniente. Mi figlio anche riceve, a través di MoneyTramp, tutto il mio supporto economico, per gli studiati, per gli investimenti. Juan Pablo è la persona più speciale per me. Il mio figlio è stato il mio sogno, nel momento in cui ho ho scegliato, è stata la mia grande lusione. Poi, noi enviamo il money a través di MoneyTramp a Filemonte, una parte della famiglia, che sta in Paraguay, e che sta in caro di questo, di ricevere il dinero e rinviare a la famiglia che ha bisogno. Ho fatto quello che ho dovuto fare per qualcuno che è un po' di qui. Io spero che consiga un lavoro dove le valore, o se vuole imprendere, anche, che lo faccia. Erei io per aiutare. Erei io per aiutare a qualcuno che si trova in una situazione che io ero, I will advise them to not to relent but to keep fighting Hola campeon Che tal, come stas? Che dà se rei? Buon intro per me, mi chieda a te, che è sorpresita Ah, io vi Salute Di nada Miguel, molto grazie, grazie mille, molto grazie I'm here for you You are my friend, you are my mother, you are my teacher, you are everything to me Alla fine di questo video abbiamo tenuto in conto i sorrisi dei nostri clienti e dei loro cari Questo processo si ripete ogni giorno con milioni di persone in centinaia di paesi Questo è il vero potere delle rimesse nel mondo I sorrisi dietro ogni trasferimento di denaro I am here for you Grazie a tutti.